Musica Apriamo la nostra puntata di oggi con un premio Che abbiamo il piacere di consegnare è un disco di platino Per il successo delle sue vendita in America a Vivian V Contenta Vivian? Moltissimo, moltissimo Hai qualcosa da aggiungere? Sì, vorrei ringraziare tutti i telespettatori E in particolare i miei produttori Giancanomeo e Claudio Simonetti Oggi Vivian è venuta a presentare il suo nuovo single Che si chiama All Right, Vivian V Applausi 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 Grazie a tutti. All right, ad aprire l'appuntamento di oggi è la nuova proposta internazionale di Vivian V. All right, ad aprire l'appuntamento 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 di Vivian V. All right. All right.